Marco Bonitta, soddisfatto per un'altra vittoria, hai cambiato ancora la formazione iniziale, però quest'Italia risponde sempre. No, beh, sì, cambiato, ma in allenamento proviamo, quindi non è proprio una cosa completamente nuova. Dobbiamo abituarci a questo sistema, adesso sto anche un po' esagerando onestamente, però dobbiamo abituarci perché le ragazze come qualità generale sono molto uguali, molto simili e devo usarle tutte perché ci sta. A livello di esperienza molto importante per questo gruppo giovane aver fatto queste tre partite? Sì, sì, soprattutto anche quella che abbiamo perso perché l'unica squadra è qui aver preso un set al Brasile quasi per andare al tie-break, quindi l'esperienza è buona, credo che le ragazze siano soddisfatte. Adesso si va a Bari un'altra pool di ferro, Russia, Thailandia e Olanda. Sì, due squadre molto alte, molto forti, che saltano, potenti, è una squadra asiatica completamente diversa, va bene, ormai siamo abituati, dai.